Salve a tutti! Per il primo developer contest ho deciso di utilizzare PyQt, quindi con Python, con il Qt Framework. Ho realizzato un programma desktop, visto che lo scopo del contest è quello di vedere le diverse implementazioni della sfida. Il codice è molto commentato proprio per favorire lo scopo. Come potete vedere ci sono due menù a tendina, uno per scegliere il file e un altro per scegliere l'utente da visualizzare. Per eseguire il programma basta avviare QB o XML. Nella finestra poi ci sono i vari link del riferimento che spero visiterete. Alla prossima!